Farming Tech 2016, siamo a Bologna in compagnia ora di Alessandro Parolini, area sales manager di Delta 2000. Di cosa si occupa la vostra realtà aziendale? La nostra azienda si occupa di progettazione, produzione e installazione di pareti mobili, porte contro soffitti per ambiente contaminazione controllata. Offriamo i nostri servizi a tutte quelle aziende che hanno bisogno di controllare la qualità dell'aria all'interno dei loro ambienti. Noi prevaliamo e sosteniamo il Made in Italy, selezioniamo tutti i nostri fornitori in modo da garantire ai nostri clienti un'elevata qualità della produzione e del prodotto. Alle aziende offriamo una vasta gamma di servizi e oltre a una vasta gamma dei prodotti. I nostri servizi variano dalla manutenzione alla consulenza pre e post progettuale. Abbiamo un ufficio tecnico con anni di esperienza nel settore e siamo un'azienda partner di alcune delle più grandi aziende farmaceutiche nel settore. C'è un prodotto in particolare che avete presentato qui in Fiera? Oggi in Fiera stiamo presentando un nuovo prodotto che rappresenta una novità all'interno del nostro settore che segue un po' quelle che sono le innovazioni del momento, quindi il LED. Noi abbiamo realizzato un sistema LED che è integrato nella maglia del contro soffitto che quindi permette l'installazione di filtri e l'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio senza dover andare a occupare spazi al di sopra i contro soffitti. Questo sistema è certificato, non ha bisogno di nessun tipo di manutenzione in quanto il LED per caratteristiche intrinseche è affidabile, pulito e non ha bisogno di manutenzione. Grazie a tutti.